Ha suscitato scalpore e profondo sgomento in tutta la comunità frentana. L'efferata aggressione subita nella notte tra sabato e domenica scorsi nella propria villa di località Carminiello a Lanciano dai coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan, ora ricoverati all'ospedale Renzetti. Pensavo ci avrebbero fatto fuori e la testimonianza del 69enne chirurgo cardiovascolare in pensione, legato, preso a pugni e massacrato dai quattro malviventi che hanno fatto irruzione nel pieno della notte con l'intento di portare via una cassaforte che nella casa però non c'era, ma prima che i banditi se ne convincessero hanno colpito ripetutamente al viso il dottor Martelli e tagliato il lobo dell'orecchio destro della moglie. La cosa è che ci siamo salvati insomma, perché durante l'accaduto il nostro terrore, anzi quasi una certezza, eravamo convinti che ci avrebbero fatto fuori alla fine. Io ho un po' di fratture piccole, ho il viso un po' rovinato, non posso mangiare bene perché le mucose sono lesionate all'interno della bocca, ho una frattura da una vertebra cervicale, insomma io ce l'ho con chi mi ha fatto male, però se devo dire che se incontro una persona per strada che mi ha fatto male poi sarei capace di reagire, no, non sarei capace. Erano italiani, erano stranieri. Parlavo, l'unico che ha parlato parlava un perfetto italiano, ma se poi era uno straniero che parlava bene l'italiano non ho idea, di figura non aveva un intercalare che potesse far pensare a una persona straniera oppure di un'altra regione. Piena solidarietà è stata espressa dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo. Sono fiducioso dell'opera delle forze dell'ordine che stanno lavorando per consegnare alla giustizia questi delinquenti. Sono stato a trovare Carlo e sua moglie per dargli un segnale di affetto e di vicinanza della città. Intanto è caccia ai malviventi e nelle ultime ore spunta una testimonianza come quella data a Lanza da Massimiliano delle Vigne che il 5 settembre dello scorso anno subì una rapina con percosse da una banda che per lui ha le stesse caratteristiche di quella che ha aggredito i coniugi martelli. Sono le stesse persone, dice, ne sono sicuro, anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto con bacia. Il capo è forse un pugliese e gli altri sono dell'est Europa. Nel comprensorio frentano sono tanti gli episodi di rapine cruente consumatesi negli ultimi tempi. Lo scorso marzo il titolare di un minimarket a San Vito Chietino ha subito il taglio di un dito nel corso di una rapina effettuata da quattro banditi. È chiaro che la percezione della sicurezza dopo questi episodi diminuisce o perlomeno peggiora. Qui a Lanciano noi abbiamo un commissariato, abbiamo la caserma dei carabinieri con cui collaboriamo come comune. Il comune ha instaurato delle telecamere in tutte le vie più importanti di accesso alla città e spero che queste saranno d'ausilio per ricercare i malfattori. Queste telecamere in rete sono collegate con il commissariato di Lanciano e quindi in realtà si può osservare chi entra e chi esce dalla città. Poi il problema generale delle sicurezze in campo nazionale è un discorso ampio che in questa sede non si può fare. Inoltre poi c'è il problema sociale, perché si delinque e qui non voglio addentrarmi a rischiare valutazioni sociologiche, ma sicuramente nei momenti in cui c'è una regressione economica c'è un aumento della delinquenza.